lo sapevo io ma io ho detto figa il mito lavale sono sicuro che mi ci sarà il contabile perché ha detto figa non è possibile non lo vedo online vedi lo sapevo ciò di là il caffè è pronto devo andare a bere 470 km il joystick non prende ma quanto stai lì ancora stasera torno a casa che voce che voce sensuale che c'è il cazzo di socio ma figa reber c'è ok una vita con un gioco a parte che io adesso giochi alla sera io lavoro quindi difficile che mi odio tutto rotto a parte che non ti senti e poi fai schifo oh frate mo grazie per la condivisione amore ora no c'è un tastiera e il mouse no vabbè io non la posso giocare questa perché non puoi cambiare l'impostazione che cosa devi quittarla mi si è messo il mouse e tastiera il solito coitto ci sono per fare renni eh devi tenere altro l'onore del rennaio perché ieri con Pingu ho fatto 6 partite e 3 win quindi andiamo a far meglio oggi che cazzo me ne frega mamma mia nello stato in cui sono adesso guarda ma io c'ho anche gente in chat si chi è qua buongiorno è una principessa al ciolito io ho scritto un messaggio su whatsapp l'ho bilanciato di tagliargli le gabbe non si deve mai più permettere e non contento nella mia obbligichezza molesta ieri ho scritto pure a meret e gli faccio mandami un video mentre triunce fuori al ciolito mi fa no guarda sto andando per il ritiro delle nazionali non sono con loro e faccio un work devono io e è schifo catarroso no padлось ho un acidità di stomaco che auf cazzo fai schifo da domenica sera ma Poi non ero soddisfatto sono arrivato a casa e ho iniziato a sciottinarmi Così, a sbrullo proprio Tutta la vita Sto malissimo raga, sto malissimo, ho un'acidità di stomaco e non ho una coca cola, cioè sto impazzendo Ma fatti portare anche il Maxor la coca cola Buongiorno a tutti Chat, buongiorno Votamà Sa che devo vomitare Anche perché credo che il caffè non sia stata una grandissima mossa Eh no, per l'acidità diretta Bevite anche un bel succo d'arancia così Avrò bevuto tre litri di acqua Mangetti un po' di limone, ma andate a fa' un culo Madonna Mamma mia, ma quanto è alto il volume? Abbassa subito qua Ma chi cazzo me l'ha fatto di andare live stamattina? L'unica cosa per cui sono andato live stamattina era per il contabile, rendetevi conto C'era 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 Quale onore Porco due Poi, poi, mi devo attaccare pure a vedermi sti cazzo di napoletani di merda che mi cagano la minchia Porco due Ban, via, subito Sì, amore, comincia a silenziare tutto Tutti quelli che parlano di Napoli e Milan Ma chi cazzo c'era il bicarbonato, man? Ciò, ciò E fai vip che insulta di Juventus C'ho le labbra Va bene, Nicolo è silenziato assoluto Asciutte Parla lui, Nicolo, poi Che sono partita di Juventus E ho preso due schiafi dal mondo Uno come gol e uno morale Sto andando a rallenti, regà A rallenti sto andando Wow Fantastico Eh, l'ho sentito Tempo di far questo E è arrivato l'altro Che cazzo devo fare io Bravo Stermina il team Mi dissocio, Nicolo Ma mi dissocio, Nicolo Ma lei è un maleducato Ma lei è un maleducato Si è un fiato subito Mi preoccupare che non parla più Nicolo Però No, ma perché ce l'avete con Nicolo, poverino Oh, ma ha rotto il cazzo C'è gente alla nave Oh, ma lei è assolutamente Oh, ma lei è assolutamente Oh, fratello, grazie per la condivisione Ma questo? Sono nave, ragà Sono tende, occhio All'altezza del tuo dipendente All'altezza del tuo dipendente Quattro, ma livello 481, regà Ma chi cazzo è? Buongiorno, Luca Signor 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 Forneserri Lei è una merda Ma regà Ma è qua Sono da me No, ma da dove? Sta partita Ho il dubbio che questa partita finirà Eh, va fanno meglio Ma cosa stai facendo voi, scusate? Io Io Beh, lo fermate Bah, la prenda le lincelle ematicamente ubriaco da ieri sera sono andato in un bar di napoletania a guardare il Milan cioè in un ristorante infatti l'operazione vale il cappello è diventato contabile mi dà pure fastidio leggere la chat giallo buongiorno non è che magari ti conviene andare a riposare e vedere se ti riprendi ma voi non avete capito che oggi sta arrivando qua bro sta arrivando allora io butterei giù uno shortino di amaro del capo ci stavo pensando anch'io ho scritto bro io faccio ti prego portami una coca cola mi scongiuro portami una cazzo di coca cola vaffanculo salomella la porta calda sto malissimo malissimo cioè l'unica cosa che voglio fare in questo momento è vomitare ma perché non ti riposi un po' vale ma ti fai i cazzi tuoi per favore beh scuso si no no l'ho invitato l'ho invitato ciao Michele se scriviamo tutti così leggi meglio eh si mi aiutate se scrivete così allora settimana nuova nuova lista donatori diamoci da fare ma vai affanculo non c'è tempo da perdere allora la cosa delle sub qua lo togliamo che non ci interessa più ma mi dovete fare un favore ma perché stiamo mettendo tutta gente così forte a livelli 333 ma che reo prima quello di prima che mi ha ucciso è livello 480 bocca come cazzo stava al mondo quello cioè guardate che sono tutti fortissimi eh in ste lobby io non so prenderemo schiaffi eh ma ci sei tu adesso vale cosa fate cosa fate mi date il cambio esatto allora mi dovete fare un favore voi tre dovete intrattenere la live al mio posto ok posso al contabile ma possiamo anche insultarla la chat o potete fare guarda quel cazzo che vuoi adesso mi scivola tutto addosso sinceramente vabbè manco fatto su però ah e sei tornato tu con double sì perché alla vale non vuole trattenere la chat ah ok niente io ho preso il palo sono sotto no mi sto rotto le gambe va bene tutto e pieno sì ho visto 418 allora abbiamo un loadout abbiamo un loadout sì aspetta vabbè ma ma sei sciuto allora allora soldi allo shop cioè io livello 54 citta questo regà no non citta era una battuta ma porco due la tua sacca è al tuo posto ora voglio vedere wow ma quante quante uccisioni stai facendo pata ma quando sei forte stamattina mamma mia ottimo ha nientato loadout da tirare su tetto da nave da nave da nave no io sono su tetto arrivo madonna tutto veloce vedo solo che mi mira perché c'ho massima ma sarei in uno strato di finestra vabbè Aldo tu sei vecchio cioè oh attivate il contratto sono qui sono io hanno fatto ma hai ucciso pumba brutto uomo di merda ma non voi ma no ma spara colorato ma spara colorato una volta che dici che provo il ppsh scoporco vedo la sciocca sotto uno è nella casa di fronte andiamo a prenderlo ok è andato a nuova uo 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 uu no no uo uo u Lim dai! ho finito i colpi! prego eh! grazie! mi ricarichi l'arma? grazie! non so dove sto andando e che cosa sto facendo ma è normale che non si vede un... in che senso? Luca! buongiorno Jacopo Truccio buongiorno c'è nessuno sul tetto si si prova a fargli il giro da dietro oh! uno dietro! pata! è arrivata qua! mi conferma! mi conferma! arrivo! è distrutto sei tra gli ultimi 25 e la mattino di... fuori i ciechi fuori i ciechi pronti all'attacco aereo righetti 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 mattosu chiammi il cazzo manzo perché è di merda mi dissocio si ho visto ah c'è ci sono io sono un flyer oa 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 anche sotto attende oa ci avete colpi cecchino voi? si ne ho 36 anche io bella arrivo vabbè non ci faccio cagliare oh ma la taglia regà occhio si è sotto è sotto? si buongiorno 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 a tutti buongiorno a tutti è sopra è sopra nel tramezzo niente non ce la faccio regà c'è un cadavere eccolo maldito il cortico maldito il cortico ma è là in mezzo alla strada in mezzo alla strada dietro uno che mi resta check it arrivo 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 grazie per la condivisione grazie per le condivisioni raga oh ma ce n'è un altro qua che schifo niente niente ma distrutto niente ma distrutto niente ma distrutto no ce n'è un altro giù 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 sei vivo mamma mia grazie per aver fatto partire il party sono morto no l'ho di imprendibile quale no dai con se stelle è one shot dai con se stelle mica è grazie per il 500 no grillo ora devi dare una mano ora devi dare una mano livello 25 dai vai uomo salve con le 90 grillo con le 700 dai chat lei sa cosa fare per farmi contento sto malissimo raga lei sa cosa fare per farmi contento da me da me da me un abbonamento ma quanti sono raga vabbè faccio l'addio saliamo contro si vai uomo ho lanciato dai con se stelle c'è gente da me sono tantissimi sono tantissimi sono tantissimi sono tantissimi sono tantissimi grazie per le mille qui ci resta resta chi? cosa? ah ok a me che cazzo vuole questo? sono tantissimi non mi colti vai ti magnetato ora sento altri passi sopra si sono da me si sono tu sul tettino piccolo una persona non dobbiamo fare ogni giro godo di magnetato uno arriva da tende eh visto 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 ho fatto uova rossatela sono tutti a tende raga come cazzo si usa la m4 come cazzo si usa la m4 comunque raga a 0-1 vai a fare anche l'altro oh i party rega dai completiamo sto cazzo di party ragazzi mi sono sconcentrato un attimo per una partita grillo grazie per le stelle dai rega dai rega dai con sto party mamma mia oh bello ho fatto cagare sta partita rega 11-11-10-7 stupendo chi ne ha fatte 7? figurati quello scarso di merda dai rega completiamo sto party dai dai completiamo sto party chi ne ha fatte 7? fatelo per me te e sembra più che giusto dai che manca poco ha fatto 4.000 di danno cioè guarda lì guarda fatta ha fatto meno danno di me 10 kill che cazzo ti volete io sono stato precisissimo ma su chiami il cazzo vai uomo dai con ste stelle ok gg camper di merda g stronzi usciti peccato no no brutti fratici di merda non abbiamo fatto il party eh così grazie alle 50 Michele ma in colpo oh Michele oh animalo ma ieri com'è andata la partita con il Napoli non cagatemi il cazzo non cagatemi il cazzo Marco buongiorno grazie per le mille ti seguo pure dall'Albania cosa cazzo ci fai in Albania vabbè leggendo il tuo cognome suppongo che tu sia albanese giustamente ma che cazzo ci fai in Albania grazie per le mille Marco dai con ste stelle oh settimana scorsa Ricola hai mandato un sacco di sub allora c'è la nuova classifica settimanale muoè dei donatori e io non posso vedere il primo grillo ragazzi non lo accetto come cosa c'è il grillo a 1750 stelle scusa per il ritardo ma sei tranquillo matto ma che sei matto anche stelle no è vero è vero è vero che cosa studi Fabio buongiorno da pulitare si vio ore va donna tu puoi guarda non perché sono milanista ma se c'era un risultato corretto era il pareggio porco due ieri sera poi io veramente mo se fossi se fossi in Pioli prenderei Callullu e lo metterei davanti alla porta a fare uno contro uno col portiere per i prossimi 25 anni raga non segna mai sotto porta l'altra volta cosa è sbagliato quello con l'assista di Decatler aveva messo davanti Decatelan l'aveva messo davanti alla porta ha sbagliato anche lì oh questo ha sbagliato era giusto il pareggio dai regà quanto due oh mi ha preso due traverse che anche lì ho scritto a Merete faccio porco due te taglio la mano figa ho fatto una parata su Giroud al dodicesimo che l'ha buttata sulla traversa l'ha toccata proprio quel minimo per farla andare sulla traversa madonna termoidraulica studi porco due che che parole complicate no come è andato oh sono forciato eh lo sapevo lo sapevo stunnato che cazzo faccio ma da dove oh sono in due qua uno non ci credo un secondo mancava il mio cane no ma il mio cane ho detto il mio mi dissocio completamente fatta lei è una una persona sdignitosa ma non era prelobby c'è chi d'auto la prossima volta la prossima volta che mi mandi tutti sti spam di messaggi al mattino non è che io ero nel letto porco due non facevo altro che leggere cioè porca aspetta facciamo una prova vediamo così Ren puoi dire vale di allargare le cosce che ho i polpastrelli freddi con le cuffie non mi sento ma io mi dissocio completamente allora stiamo calmi tutti che Marco qua ha mandato cinque abbonamenti e voglio un gg no mi devi spammare gg check it out mi devi spammare gg check it out adesso lo calmo adesso lo cambio t'ho detto gg check it out ok dai che un po' mi sto riprendendo sta risalendo l'ignoranza Marco grazie pericci qua bonaventi ma no è stata è stata una una sconfitta comunque dove oh comunque ieri lei sa cosa fare per farmi contento si è dimostrato che Milan e Napoli fanno un altro campionato regà eh anche la Juve cioè ieri è stata sì anche la Juve di serie B lo fa la Juve di serie B la Juve mamma mia sono Squizzo salutami Pata PS ieri sono sfortuna si entrava nella traversa e la partita cambiava grazie per le 100 ti saluta Squisa Pata Squisa Squisa demonio va beh continuo con il GG allora nel senso mi piacerebbe anche leggere un po' quello i pensieri degli altri esseri umani in chat però se vuoi continuare così non puoi ti hai dato libero arbitrio no dai raga che c'è la la classifica nuova dei donatori bisogna arrivare ai soliti 25 donatori di organi diversi c'è di sub ho sbagliato scusate e le stelle le stelle oh vai ok facebook mi ha silenziato fantastico per quanto non mi saluta perché non c'è di solito un quarto d'ora ma non ti sfugge un cazzo io non ci avevo pensato è comunque appunto un quarto d'ora di solito di solito un quarto d'ora ma si ma non mi rimane tipica un posto sborria pesante concio buongiorno comunque buongiorno ho visto sul mercato nero un rene vale 180k non è male mi dissocio completamente pata pata ti saluta squisa chiedi squisa mi dissocio squisi sono morto no 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 aspetta bastardo tre ho messo in terra sul terra tre se salite lo sta restando e c'è un'altra ok sono in tre non salite no due a terra l'altra 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 è di là ok è saltato giù porco due quanti sono dai ragazzi sono una marea no 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 sei di nuovo dentro in classifica sei primo con cinque sub e il secondo con mille stelle di sub secondo sì è terrato un altro no eh vabbè ma non vale così però ho messo giù uno con dodici colpi rega non ho più colpi senza piastre un altro un mitraglietto un mitraglietto un mitraglietto qua ha fiazzato assist assist va che sono scatenato come cazzo ha fatto uccidermi sì ci sei andato molto vicino gli altri me la pinga ti attende oh vai ma gli hai dato filo da torcere Marco gli hai dato filo da torcere ce ne so due da noi no che girata viene uno dividere come dietro di me è andato dentro arrivano due oh è qua schifoso ma in tutto ciò ancora non abbiamo lotti come è possibile no siamo poveri è semplice abbiamo i soldi abbiamo i soldi bella Mirko ciao Maria buongiorno ragazzi come state tutto arrosto uno è sceso giù a nave se mi date i soldi facciamo anche il loadout c'è chi d'out c'è chi d'out c'è chi d'out c'è chi d'out arriva c'è chi d'out arriva ok 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 o voi ah ho piaciuto con il gioco che ci trova della gente eh porco due c'ha tre ah no pensavo ne avesse otto è patagonotto ma pata ha iniziato a cittare raga c'ho una chilo ah hai c'è chi d'out che ne ho otto sono io si ti sto massacrando oggi ma che cazzo stai massacrando cose aia aia per te sei lì da solo io perché volevo uccidere a tutti i costi questo e l'ho fatto dai ma vaffanculo un altro team da dietro arrivato muki jupp vi ha ucciso se quanti sono troppi attenzione che rinforzi sono in arredo c'è un soldato nemmeno c'è un soldato e sui facciamento alleato sono 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 di fate che sono ? sono sono è . è sono sono è è è è è Nice wallack Nice wallack C***o E' mezzo il tuo compagno Dimmi che è esplosiva Dimmi che è esplosiva Nooo No Un pirla con l'arco no Sono io Testa di c***o Non ci credo Tu in terra su te qua Qua Mi indico delle trappole nemiche Dai c'è una qui sulla torre Ma perchè? Vieni a salvarmi Vieni a salvarmi Non è che abbia molta voglia sinceramente Grazie pata Occhio alla torre Mi lasci anche due piazze Vieni il man eh Oppure Ma Cosa? Ma chi è che ha fatto sta palestra da strani sessuali? Qua è pieno di piastre se volete Ma puoi dire al contabile di non disturbare per favore Oh 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 Guardate questo col bazooka C***o In terra su torre Vai vai l'ho messo in terra Ma Aia Testa di c***o Dove sei? Testa di c***o Aia 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 Ma io sono tutto completamente d'accordo su tutto quello che ti ha detto Curva, eh beh, curva Occhio a bocciare Marius, buongiorno E te non posso craccarli tutti però Perché no? Perché mi sono detto il cazzo Ce ne sono due su boccione, raga Un'intera qua Dai, due ore per ricaricare In terra Buongiorno, Costantino Io ho spiccicato un proiettile in fronte a questo, raga Io ho preso la balestra, da quando ho preso la balestra in mano ho fatto una kill Oh, gente giù in fondo Sotto, raga, sotto di me è pieno Eh, qui si lamenta che muore E' fantasmato dentro la casetta Quale casetta? Fuori safe? La morte che è appena restato, infatti Sali da lì, me lo sento In terra Ma quanto devo mirare? Ma arriva lunghissima sta balestra Oh, guardalo sopra control Sono due sopra control, raga Sono indemoniato Non, non, non Basta, non devo più prendere la balestra dire che non faccio più mezzettina Quando Ren ti dice che sei fai finta di niente, c'è chi, perché non è per niente sei Ma se non era per il secondo, se non era per il secondo Avete piastre per vale, ma contabile Che naso, c'è un naso importante E ogni volta che sto notizio sono 50 euro, è clamoroso Una alla destra e una alla sinistra, no? Eh? Una alla destra e una alla destra e una alla destra e una alla sinistra Ma Marius, parlando, ridendo e scherzando, perché voi state salutando così calorosamente Marius in chat che non ha la sub? Ciao Marius Cioè dovresti insultare tipo tutta la famiglia Ma tutta proprio Marius Aiaiaiaia E quando cacchi i pezzi da 500 Fatta che non te la vedo la sub Voi vedete la sub a Marius Gaimera No No È solo giallo È solo giallo, pure cinese sei Ma tonna E di socio Benvenuto in chat Marius Ah, non ce l'ho shop Vabbè dai, rischiamola comunque Sarà pieno di soldi Tanto fare lo d'auto è superato Fuori ci sono braciole Fai un sugo Cioè devo pure... Matt grazie per le 50 Dai raga che ci sono le classifiche settimanali nuove Dai, dai, dai Facciamo vedere agli altri streamers la potenza del rennaio Ricordatevi sempre Non donate un cazzo agli altri Tutto a me Mi raccomando, eh Questa cosa è importantissima Vabbè, non mi puoi dire il trucco Così posso donare di più a te Che trucco, che cosa Io non so minimamente come sono sceso, raga Vabbè, sono un po' esagerato, eh Ho ammazzato questo Mannaggia, l'Ubukin Impari a vincere con Milan, bastardo Allora, abbiamo lo d'auto Uno che va giù a nave Andiamo, andiamo Andiamo a cazzarmi Che gente, uno che l'ha trattato di sopra Ci sono stati quei due secondi che mi hai guardato Senza capire che cosa stesse succedendo È stato È stato bellissimo Vabbè, è così confuso da colpirsi da solo Dai, ha preso l'elica e palle Dai, check it out Smettilo di fare il professionista del pulito Mastro lindo sgrassatore Col buco del culo Sei un furore Prendetevi geniere che non so che cazzo serve Vuoi sapere qual è il trucco? Eh, per poco No, chi è che l'ha buttato qua? Siamo tutti fottuti, lo sapete Dammi i soldi, dammi i soldi Ma dove cazzo è che sparano? Non lo so Allora, che armi uso? Dai, proviamoci il 58 Inizia con lasciare per terra la mia Ha lasciato? Ma abbiamo cichitato Ma lei è un C.A. terzo Hai visto, vada? Gennarino, ho fatto tutti i genarino La morti mamma, testo bastardo No, vabbè Te l'ha detto che so, grazie Ciao, Renna Sono anche con l'influenza Sto qui a vederti Ciao Io non ho l'influenza Matte, grazie per accendo comunque È solo un rottame Esatto Sto proprio rotto dalla sera Cioè Dalla sera, dal giorno, dalla mattina Del pomeriggio Dai, ieri sera sto rotto Atterrato uno su tetto? Infatti mi arriva qua Bro Che vuole alcolizzarsi Lui di sicuro oggi mi porterà ad alcolizzarmi Ma io non voglio alcolizzarmi Anzi, devo anche far togliere il sabbè Ma dove sono i nemici, raga? Noi siamo qua contro Dai, fai schifo Ma cazzo, era sotto? Sì, è nascosto dietro la porta Ma Ragazzi Ma chi è che ha perso un sandalo? Così a Bruno mi uccide Ma chi è che ha perso un sandalo? Sono morto, lo sapevo L'ho sentito io che era lì Ma sono un coglione Ciao Rizzo In due pure Strefezza Hai rifatto la sabbè, Mario? Se non mi è arrivato l'avviso Buongiorno Rennaio E già non hai la sabbè Quindi buongiorno un cazzo Sì, ma mi c'è Proprio da te Guarda Che vai all'addio al celibato Con la mia maglietta E poi Guarda Sono senza parole Comunque Che cazzo hai scritto? Se non è vero Ora è questo Qua sono le 6.20 del mattino Sei a New York Mamma mia che bello Ma fai un favore? Ma vai a cercare Piero Armenti E mi mandi un video Dove dici Amici 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 Però Mentre lo decide Tipo vomita sui piedi Deve essere tutta una combo spaziale Deve essere Ma chi è che ha perso un Pieru No 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 Hai lasciato lo shot sul tetto? Sì 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 Comprami tutto Così Così sexy Beh grazie Non lo so Ma un Un loadout potete comprare Gli altri due sto sotto Cosa cosa mi merito Aldo? Che cosa mi merito? Che cosa è successo Aldo? Dimmi un po' Mi lasci i soldi per il lobby? C'è uno Eh Serve Vale Puoi fare loadout per favore? No Ci sono delle persone C'è lo shop portatile Vale Io sono completamente senza parole Non ci credo è riuscito a farlo Oh frate Grazie per la condivisione Davide Grazie Grazie per la condivisione Sono saliti in due Aia Prova a scappare E' un soldato nemico Vattene Ok questo è qua sopra Oh mamma mia quanto cazzo che hai preso No no AAAAAH Vabbè ma mi hanno sparato in 18 Rega ma Che coi Buongiorno Claudio E' Winston Rosso Pievo Bravo Simon Buongiorno Fede Posso prenderlo? Ciao Coro E' tutto bene Non troppo Guarda 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 C'è qualcuno altro Non posso prenderlo ti devo aspettare Eeeh No C'è Difficoltà Qua cosa devi fare Non l'ho preso io quello da out Fai quel cazzo che vuoi Tanto fai comunque quel cazzo che vuoi Ma io c'ho due kille raga Non sto giocando porco tu Io Ma vale che fa Passaggio in game Grillo Occhio a quello che dici Che ha qualsiasi tipo di potere nei tuoi confronti Occhio a l'ho preso Occhio a provare il C58 ma fa veramente cagare Marcello Occhio a che patate bombardo al culo attento A coglione a terra A coglione Però non l'ha confermato Bella more Ren cuolo Grazie per il 145 Marius Se era arrestato Morirà Solo Triste come la sua vita Sulla torre Vai uomo Peggo queste stelle Un'interra Si vabbè ma vai affanculo C'è Son due Son due Son due Son due Vale occhio Io giuro che ve sono veramente grato Se uno viene giù Un'interra Che cesso di merda Che cesso di merda Ecco uno lì Guardalo Porco due Un cespuglio ci ha ucciso rega Bella fe Buongiorno Buongiorno Loris Buongiorno a tutti Come state? Ciao Basta sta partita qua Faccio Vittoria Senti come si è ripreso No c'è un mal di stomaco clamoroso Devo O mangiare O Devi farti portare il mac E la coca del mac Non sono troppo Comunico di quello che mi stai dicendo Sono Sono obbligatori Dopo una sbronza Alla mattina Capito mi hai Dov'è bro Aspetta Digli subito alla coca aggiungi un big tasty Menù Due cheeseburger Basta Allora mi è arrivato un attimo pro Rega dovete darmi due secondi che vado Arrivo Wow Un megalodonte Però no Che non è il fin di soli Un megalodonte 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 Fin dell'allenamento. Vediamo cosa avete preparato. Questa è un po' di più. lei sa cosa fare per farmi contento quando fa l'abonnamento mi fa cammino sta cercare di mario no 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 Oh mannaggia Vivi vale, vivi No, è andato da prima Ok Pazzo Paglio, abbazzati Da dove ti hanno fatto? Da Contro il gioco Niente No, è bravo Che forte, che infame Cazzo Sì Sono pure un nado Oh, per favore che ha brindato Cazzo Tu patta sei sotto prison? Sì, ma C'è quasi il solo livello oddi Stronzo Stronzo Dai Fatela prendere nel culo Niente Ce la posso fare E tutto questo Renny è vivo lì in mezzo al nulla Fermo Sì, sì Dovremmo stare lì fermi anche noi così Aspettare fine lobby Dove andiamo patta? Eh Andiamo a B Andiamo a B Andiamo a B Andiamo a B Ma da Vale com'è messa, Vale? Come sei messa? Eh, c'è gente Eh Ma tanto è libero eh Andiamo sul tetto Andiamo sul tetto Oh Che ti ha fatto Vale? Eh, uno qua nello stanzino Adio Beh, non c'è un'arma Sì, una qua O arriva l'oddi sul tetto, dai ti prego dimmi di sì Mamma mia che culo Ce l'ho qua dentro Arriva patta A coglione madonna Minchia, questa è la porta eh Sì Saltava a destra a manca, a sinistra Occhio su boccione eh Uh, ce l'abbiamo dietro Eh, sono morto Bombardamenti? Grappolo No Sono sceso eh Sì 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 No, lì sul tetto Ah Eh, vai affanculo, va affanculo Perché io non sento, perché? C'ho bisogno di piastre C'ho bisogno di piastre Ah Mi hanno colpito, mi hanno colpito Tutto questo Remi non è stato qualcosa Non ho parole Sì sì Beh, lui arriva tra cinque minuti Prende l'oddi Fa diciotto kill Vinciamo il game E' tutto ciò E' tutto ciò E' imprendibile Vai uomo Dai con se stelle Sono da fermi Madonna Madonna Oh, uno in terra Due in terra Nooo Dai, due in terra su tetto Non ho un cazzo di arma L'altra è da te Pata Dovrebbe essere dietro di te Al nostro lodi Ce l'hai eh Ci sono compagni di squadra Pata ma Dio calma Però mi dice Sono qua fuori Prendi il puff Mi dice Sono qua fuori E poi era il penny A prendermi la coca cola Regà Buongiorno Ciao bro Buongiorno bro Arriva Aspetta che ora mi devo impegnare Che devo far vedere che non citto Gigi Ma dove cazzo Ok, questo è in terra Questa l'ha presa male Non è in terra questo Dov'è che sono? Cazzo a piattere qua Oh! Aspetta un attimo qua Dov'è che sono? Madonna sto facendo una difficoltà stamattina Che non ne... Non ne hai un'idea Oh! Cioè non riesco a correre Non riesco a fare un cazzo Non riesco a correre Eh sì Eh sì Grazie Hai l'ho identificato Buon divertimento Buon divertimento Buon divertimento Ci fa c'è una sacca Ora andate da prendere Eeeh lo sapevo io che lo prendevo del culo Camperone sei un camperone Oh sto megalodonte qua mi ha dato del camperone a manetta proprio E non ricarica porco due non ricarica Ce ne so tre in casa della morte raga Sì un'era in terra Era 3 2 Ma... No da dove? Eh da torre Ma ci stanno tirando dietro anche Ci conviene scendere Andiamo ad aree Nooo Si andate vaccinate per morire lì sotto Eh? Forza nato Madonna Sta proprio... Oh Madonna C'è libertà durante le live Quando poi finiscono le live non si può più fumare Sì forza Chi cazzo sei ma chi cazzo sei? In terra Raga mi chi che ha perso un sandalù Allora eh patato ho inculato tutto quello che possedevi e te l'ho lasciato sotto Perché sono... Faccio i capricci Oh è terrato qua Oh fortissimo questo! Oddio santissimo Ma quanta gente abbiamo attorno regà Siamoci incontati Abbiamo anche un loti se volete Allora per me Quello che bisogna fare mo Hai trovato le mie armi? Stiamo un loti Sono sotto le tue armi Beh vado a comprarmi due piastre Fatti quello che volete Ok sono sopra questi Vuol dire craccato porco demonio Ma vengo su dall'altra parte Sotto 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 Te lo picchietto al culo mare Ah dietro Madonna mi sento rallentato Figa mi ha rallentato forte Non guarda niente Non guarda niente Oh! Sono dentro tu! Dai! Che coglioni Potete restarvi Non potete restarmi No Soldi Dove sono morto io ci sono soldi Invisibili Occhio ti arriva il secondo Posso chiederti una sigaretta che ce le ho di la? Questo è il mio Beh! Anche oggi ti ho fatto questo Faccio l'ultimo Faccio l'ultimo raga poi Cerco di dare qualcosa da mangiare a fru Perché non so neanche che cosa dargli da mangiare Da bere no? Prego quella bottiglia fai troppa pubblicità Non va bene Copri la scritta Questa! Tu che cazzo le sai? Vai da mezzo milione all'anno a me La coca cola per berla in live La coca cola Qua 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 Dormi senza Qua 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 Mi dissocio Mi dissocio Non faceva ridere Non faceva ridere Sto cazzo Guarda qua Guarda Eeeeh no madonna Che cazzo Nubro player Che cosa devo spingere oggi Poi devo scrivere a sabo di togliere sabi stasera No sub die stasera No sub die stasera Cazzo Dimenticato io No sub die No sub die Dimenticato tu eh No ma c'è il juggernaut No perché Lo sapevo che lo facevo in tempo Dio cantate Lo sapevo Ma chi è che ha perso un sandalo Perché lagga così Dai muoviti Non corre Non corre Non corre Non fa Non risponde Non risponde Non risponde Non risponde Oh cazzo Dai Mi si blocca Ma guarda che so sfigato forte Sono dappertutto Regà Sono morto Aiuto C'ho un catafalco Oh Li ha ucciso questo Il bolsasvagen Sono tutti miei oggi Sei fortissimo Sono troppo forte Mi devo piastrare Ah fa mo Abbiamo il loadout comunque Pieno 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 Oh entri Fa mo Fa mo Fa mo Fa mo Fa mo Abbiamo il loadout Eh sì L'ultima gio nave Madonna C'ho proprio le Comunque avete il loadout Eh se mi dai soldi Pada Faccio il loadout Capra Buongiorno Farerio Capra 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 Ma per rinnovare la sabbia Come si fa E niente Riclicchi sullo scudo verde Metti il rinnovo automatico Fa forza Puttana C'è un altro Me ne pingo un altro Lì Fa sotto In volo Infame Dove sei sceso Dov'è Dov'è Ah qua sopra L'infame Tira sulla capoccia Bastardo Tira sulla capoccia Minchia ti sparo al tallone Oh no Ba Testa Testa di cazzo Dai ma da dove Ah dalla torretta di merda Godo rifornimento Allora usiamo una seringhina giusto per farlo A terra la torretta È arrivata la coca cola È arrivata la coca cola Ciao jocks Eh stop fornerino No non mi sono girati Coglioni ieri Ci stavo al pareggio Ma ci stavo anche perdere Vaffanculo va bene così Sì ma ci sono due juggernaut ragà Io sto andando su tetto prison da solo Non so perché ci sto andando Sono due qua da me Vai 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 Sto con te Non so come prendere il primo Allo d'altro No capola tutti noi Via 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 E' quello di prima Io cane Il socio Fatto quello sulla macchia Direi che possiamo salire indistubbati a prison Grazie eh C'è gente qua eh sul tetto Sono morto due ore fa io là bastardi Buongiorno Gabriel Sono sempre i migliori che ci sono Mi chiamo virgola Non puoi non leggerla senza cantare quella roba Allora ho un problema Tutti i miei averi ho perso E io ho finito i colpi cecchino Torniamo su La ho ho la La ho ho la Ma avete messo mi piace alla live eh Non sto guardando io come siamo messi mi piace eh Raga c'è gente forte sul tetto prison Cioè penso siano sul tetto prison Oh malaterato Questo è l'infame di prima Ah famoc va famoc va famoc Da dove ti ha laserato da tetto? Eh al ping rosso sì Dovrebbe essere ancora lì in zona Sì ma te lo sei bravo da lì Io non ho piastre Io No chi è che mi ha rubato il card? Dov'è il mio card? Però quella merda lì infatti Bastardo Ne ho due qua Ai 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 Dai regà E' qua sul tetto E' sul tetto E' sul tetto Restami Restami uno che resta l'altro che copre Era meglio essere salvapata Ok mi servono piastre regà Va che ne salgono due incazzati adesso eh Eccoli Uno craccato Dio caro stavo rimettendo il colpo porco demonio Ce n'è un altro bravo eh Molto bravo Occhio Vai Reni Ma che come vai Reni eh Vacci tu o fai stare Infame schifoso Io di pro Stamattina non ho vero Uh pensavo se fosse incastrato Chi è che ha sparato quel card? C'è te Cassamuni Colpi cecchino Ehm Non so se ho voglia di darteli colpi cecchino Grazie No no tu tieniteli infame Oh madonna Arrivo Ma dove era? Sopra sotto? Sotto sotto E qua? Mamma mia è fortissimo raga questo Il mio ping Deve ancora nascere quello più forte di me col card Dov'è? Aia aia Eh quello lì è quello bravo Il tato Dai ci ho piastere Nooo È qua davanti Uno che mi resta Vieni patata Guarda che fa il giro della porta eh Andiamo a prenderci il tetto Così per Sì Io vado a comprarmi due piastre raga Ma che cazzo? Non c'è noi Eh Lì è sul testo il mio portafoglio Se non ho moneta Prendi carta Che cazzo ti devo dire? Beh questo Non si è sentito minimamente Ma È one shot Perché non mi seguite? C'è questo qua Ci sta ammazzando tutti One shot eh C'è chi dà Ti devi sta vivo È il ping Quello forte questo Dai Ma questi sono forti raga Questi erano forti Porco due Vabbè raga Io devo andare a mangiare Anche perché sto morendo Ok Questo era un fortio Ma come faceva Da aver solo 8 kill questo? Ciao ragazzi 8 kill 14 zini qua Bravi Bravi loro Bravi loro Ciao ragazzi Ciao a tutti Buon pomeriggio Ciao ragazzi Ciao a te Vado a mangiare Ci rivediamo alle 2 Ciao a tutti Pangulo Ciao Ciao